Buche e vallamenti, una strada deteriorata e inadeguata alla mole di traffico, la regionale 308 del Santo, da Padova a Resana, dal capoluogo alla Piedemontana. Una strada, una sola corsia per senso di marcia, nata vecchia, sostiene chi vive nei comuni che la attraversano. Mano a mano che passa il tempo si deteriora sempre di più e il traffico aumenta, si parla dai 25 ai 35 mila veicoli giorno senza contare naturalmente l'incidenza di mezzi pesanti. Sulla grave situazione del manto stradale continuano le segnalazioni, potrebbe essere stata una buca costare la vita a Giordano Sanginiti, giovane che la percorreva in moto sabato 4 febbraio. Se lungo il tracciato è stato posizionato un cartello, il problema resta. È il tratto di Cadoneghe, quello con l'asfalto migliore, grazie a una convenzione sottoscritta con Veneto Strade per la redistribuzione dei soldi delle sanzioni per la velocità, circa 400 mila euro l'anno. Abbiamo raschiato il terreno di circa 3 centimetri e poi abbiamo effettuato una nuova asfaltatura con segnaletica verticale e orizzontale nuova. Sistemati anche i guardrail, è fatta la regolare manutenzione dei giunti di collegamento per Cisas Chiesaro. Tra due anni apriranno i cantieri del nuovo ospedale di Padova, ricorda il sindaco che è anche consigliere alla viabilità per la provincia. La strada regionale 308 va ripensata. Prima che il nuovo ospedale nasca ci sarà traffico pesante perché bisogna anche costruirlo. Se noi vogliamo che questa direttrice stradale continui a funzionare dobbiamo già immaginare un raddoppio.